Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno a tutti, io sono Ilenia Serra, la garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Piemonte. Una delle funzioni che la legge istitutiva attribuisce al garante è quella di promuovere in collaborazione con le istituzioni regionali, con il mondo della scuola, delle università e dell'associazionismo, iniziative di vario tipo, tese a diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, dirette a riconoscere i bambini e i ragazzi come titolari di diritti e promuovendone la conoscenza dei diritti e soprattutto dei mezzi di tutela. Risulta infatti fondamentale coinvolgere direttamente le persone di minore età in tutte le materie che in qualche modo li riguardano, dando loro delle informazioni che stimolino la creazione di pensieri critici personali e soprattutto che ne facilitino una partecipazione strutturata. Nel mio incarico ho cercato e sto cercando di dialogare molto con tutte le persone di minore età, cercando di ascoltare la loro opinione e di mettere al centro l'interesse preeminente dei ragazzi. Il diritto all'ascolto e alla partecipazione costituisce infatti uno dei quattro principi a cui si ispira la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 ed è quindi fondamentale metterli al centro e considerare preeminente la loro partecipazione in tutti gli ambiti, quindi non soltanto in ambito scolastico, in ambito familiare, ma anche a livello delle istituzioni, perché questo migliora anche le politiche dirette ai bambini e ai ragazzi e aiuta, contribuisce a creare un clima di dialogo e di fiducia. Proprio in quest'ottica va un progetto europeo, il Children Digicore, i cui partner sono il Consiglio regionale, l'Università degli Studi di Torino, Sinestesia, Agevolando e Hop for Children ed è un progetto sostenuto da vari enti, tra cui il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che mira a creare un'applicazione attraverso la quale i ragazzi potranno rivolgersi direttamente al garante. L'idea del progetto nasce dalla constatazione che pochissime sono state le segnalazioni dirette da parte di persone di minore età alla figura del garante, nonostante la legge istitutiva preveda che anche prima dei 18 anni sia possibile rivolgersi a questa autorità. E da un'analisi nei confronti degli altri garanti regionali e di altre istituzioni è emersa comunque che il numero delle segnalazioni da parte di minorenni sono comunque molto basse. Le motivazioni di questo sono molteplici. Innanzitutto, per quanto riguarda il Garante, la novità della figura e quindi il fatto che sia poco conosciuta dalle persone di minore età, ma più in generale la scarsa conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi di quelli che sono i propri diritti, di quelli che sono i diritti dei propri pari, di quando questi diritti vengono considerati violati e soprattutto della possibilità di rivolgersi ad un'autorità anche se non si è compiuto ancora i 18 anni. E quindi questo progetto, la cui caratteristica principale è il fatto di essere partecipato, cioè di coinvolgere direttamente i ragazzi, mira proprio a renderli maggiormente consapevoli dei propri diritti. E la costruzione di questa applicazione, infatti, è nata proprio da quelli che sono i loro bisogni, i loro desideri, in base alle loro esperienze. La costruzione dell'app poi sarà un passaggio guidato, nel senso che verranno fornite delle informazioni ai ragazzi che vorranno rivolgersi al garante, sia su quello che accadrà dopo la propria segnalazione, ma sia soprattutto su quelli che sono i propri diritti e su quelle che sono le violazioni principali di questi diritti, attraverso anche degli esempi, con un linguaggio che sia quindi semplice, molto facile da comprendere, ma anche che accompagni la presa di consapevolezza dei ragazzi. Nel mese di giugno verranno svolti dei workshop con i ragazzi e con i professionisti, in cui si testerà questa applicazione. Nel mese di novembre verrà svolta una formazione nei confronti dei professionisti e verranno elaborate delle procedure standardizzate. La finalità principale è anche ovviamente che migliori la fiducia dei ragazzi nei confronti delle istituzioni. Grazie a tutti e buongiorno. Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono il garante dei detenuti della Regione Piemonte. A dire la verità, la dizione esatta e completa è garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che vuol dire molto di più, cioè garante delle persone che sono ristrette in carcere, ma anche quelle che sono all'esecuzione penale esterna o sono temporaneamente al centro di identificazione per l'espulsione, il CPR di Torino, o nelle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il titolo di questo intervento è Carcere e Società, perché l'obiettivo di questa figura di garanzia della Regione Piemonte, che è attiva in Piemonte dall'aprile del 2014, è di fare una riflessione sull'importanza del rapporto fra il carcere e la società, la cosiddetta società civile che siamo noi, che viviamo all'esterno delle mura penitenziarie. Sin dal lontano 1975, quando l'Italia ha approvato un importante e innovativo ordinamento penitenziario, gran parte delle più significative attività che danno senso all'esecuzione penale, che danno senso alla pena, sono o devono essere compiute da altri soggetti, non dal carcere in se stesso, non dall'amministrazione penitenziaria da sola. La scuola, la formazione, i servizi sociali, l'università, il lavoro, la sanità, sono tutti servizi pubblici che altri soggetti, altre istituzioni devono fornire, pur in un contesto chiuso come quello del carcere, ai cittadini che sono lì reclusi, ristretti nella libertà personale. E sono dinamiche importantissime perché sono gli elementi fondamentali per sperare che il periodo di privazione della libertà, il periodo di pena, sia anche un periodo utile, efficace, non soltanto per escludere dal contesto esterno chi ha commesso un reato ed è stato condannato per questo, o è in attesa di giudizio, ma per costruire con queste persone, per queste persone, dei percorsi diversi, dei percorsi utili a incidere sulla recidiva. L'Italia è un bel paese, ha un sistema penitenziario che è fra i più onerosi di tutto l'ambito europeo e nello stesso tempo è uno dei paesi che ha il più alto costo di esecuzione penale in carcere. Quindi uniamo una certificata inefficienza del servizio con una certificata onerosità del servizio. Ed è per questo che è importante che dal carcere arrivino richieste precise e puntuali alle istituzioni del territorio, i comuni, le province, la regione, la regione, la nostra regione, per avere un aiuto nel costruire in modo utile la giornata detentiva, per fornire percorsi utili per i detenuti. La società ha questo interesse. Incidere sulla recidiva vuol dire incidere davvero sulla sicurezza, non solo quella percepita, su una sicurezza vera, costruire persone che, avendo capito di aver sbagliato o avendo capito di aver percorso una strada sbagliata, possono ricominciare, avere un'altra opportunità. E allora è importantissimo che la regione sia attiva, precisa, puntuale nell'erogazione dei servizi come quello sanitario. Occorre sperare, avere una scuola efficace, efficiente, la formazione professionale, che è un fiore all'occhiello della nostra istituzione penitenziaria piemontese, ma soprattutto occorre puntare sul percorso fra il dentro e fuori. Come garante ho chiesto a tutti i tribunali del Piemonte la ricostituzione dei consigli di aiuto sociale, che sono uno strumento previsto dall'ordinamento del 75, ma non attuato. Ed è per questo che vi saluto con la speranza che questo intervento possa spingere per la costituzione dei CAS. Buongiorno a tutti, sono Paola Baldovino e sono il difensore civico della regione Piemonte. Il difensore civico regionale è un'autorità di garanzia della regione Piemonte, è un organo indipendente e non è sottoposto a alcun vincolo gerarchico. Il difensore civico agisce a tutela di diritti e di interessi dei cittadini al fine di garantire e promuovere il pieno rispetto dei principi di buon andamento, di imparzialità, di trasparenza, di legalità, che le amministrazioni regionali devono rispettare nello svolgimento della loro attività. Sono peraltro questi principi fondamentali sui quali si fonda l'attività di tutti i pubblici uffici e che trovano il loro riconoscimento nell'articolo 97 della Costituzione. Il difensore civico della regione Piemonte è stato istituito con legge regionale nel 1981 e la sua figura trova riconoscimento nell'articolo 90 dello Statuto regionale. Sono quindi ben 40 anni che l'Istituto della difesa civica opera sul territorio piemontese. Il difensore civico è preposto alla tutela amministrativa dei cittadini e quindi garante della buona amministrazione. Pertanto, abusi, inefficienze, disservizi posti in essere dalle pubbliche amministrazioni regionali costituiscono il punto di partenza dell'azione del difensore civico il quale, ricevuta la segnalazione e appurata l'esistenza di una disfunzione interviene al fine di correggerla. La sua azione, in ogni caso, non è volta a tutelare solo l'interesse del singolo che ha presentato l'istanza all'ufficio del difensore civico ma è volta a tutelare l'interesse di tutti noi ad una buona amministrazione. Il difensore civico, ricevuta la segnalazione, formula un richiamo alle amministrazioni per risolvere la situazione di cattiva amministrazione riscontrata. Con il suo intervento, sollecita, propone, suggerisce rimedi affinché l'amministrazione corregga definitivamente il proprio comportamento. Per questa ragione, il difensore civico presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione nella quale, oltre ad illustrare l'attività svolta, evidenzia rimedi normativi e organizzativi che possano rendersi necessari per superare le situazioni di cattiva amministrazione riscontrate. I settori nei quali il difensore civico può intervenire sono piuttosto ampi e possono riguardare la scuola, l'ambiente, il diritto di accesso agli atti in sede di resame, la sanità e l'assistenza sanitaria. E con riferimento a questo ultimo ambito, recentemente il legislatore piemontese ha attribuito al difensore civico la funzione di garante per il diritto della salute, nell'esercizio della quale il difensore civico è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regimi di convenzione. Altra importante funzione attribuita al difensore civico è quella di garante del divieto di discriminazione ed è il principio di pari opportunità delle persone. Mi preme ricordare che il servizio è totalmente gratuito ed è accessibile a chiunque e che rivolgere un'istanza al difensore civico è piuttosto semplice in quanto basta compilare il modulo che potete trovare sul sito del Consiglio regionale nella pagina dedicata al difensore civico www.cr.piemonte.it e trasmetterla attraverso la posta elettronica. Per chi invece non avesse a disposizione mezzi elettronici potrà comunque inviare la propria stanza attraverso la posta ordinaria presso l'ufficio del difensore civico in piazza Solferino 22 Torino. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Buongiorno, sono il garante dei diritti armali della regione Piemonte. La domanda che posso porre è questa ma l'uomo è davvero il miglior amico del cane? Sappiamo che si dice che il cane è il miglior amico dell'uomo. Allora noi abbiamo tante volte delle situazioni problematiche. In verità per essere i migliori amici del cane è abbastanza facile basta rispondere al cane ai suoi bisogni essenziali cibo, acqua, riparo, una cuccia e soprattutto garantirgli la possibilità di esplorare quindi portarlo in uscite nel mondo esterno. Però se queste cose sono così facili non sempre l'uomo e la donna rispettano i bisogni dell'animale. Abbiamo tanti problemi anche in Piemonte, anche a Torino. Ad esempio abbiamo ancora sovente dei cani che sono tenuti sui balconi in spazi ristretti, senza riparo, senza cuccia che non sono portati fuori a passeggio. Se ci spostiamo in ambito rurale abbiamo un altro tipo di problemi i cani con la catena, cani con la catena corta che non possono fare movimento che non possono naturalmente neanche loro svolgere quell'attività di esplorazione e di socializzazione che è così fondamentale per i cani. Entrambi, sia i cani sul balcone che quelli a catena avranno sicuramente dei problemi di stress stress che denunciano, ad esempio, abbaiando ripetutamente e quell'abbaio significa la loro sofferenza e la dimostrazione dello stress. Sempre, diciamo, in ambienti esterni abbiamo dei problemi relativi al modo di tenere nei box abbiamo talvolta cani che sono lasciati nel box per lungo tempo anche loro senza che siano portati in ambiente esterno quindi anche loro non svolgono attività di socializzazione e di esplorazione e anche per loro sarà inevitabile una condizione di stress e quindi di sofferenza. Un'altra problematica che abbiamo è quella della gestione dei canili perché, ripetiamo, anche in Piemonte ci sono ancora dei canili che mantengono troppi cani rispetto al personale addetto e quindi le conseguenze per i cani saranno quelle che non possono essere condotti in passeggiata all'esterno e quindi, come abbiamo già detto, anche per loro la regola sarà di non poter svolgere né socializzazione e né esplorazione conoscenza del territorio allora le condizioni che abbiamo visto che, ripetiamo, non sono diffusissime ma che esistono richiedono più attenzione e richiedono che si affrontino sistemi per migliorare queste cose innanzitutto ricordiamo che il sito del garante degli animali che è presente sul sito del Consiglio regionale del Piemonte è, diciamo, attrezzato per ricevere le eventuali segnalazioni di cittadini che vedono delle situazioni non corrette nelle condizioni di mantenimento dei cani in seguito, secondariamente speriamo che al più presto anche in Piemonte venga adottata la legge che vieta la possibilità di mantenere i cani a catena legge che è già stata emanata in parecchie regioni italiane e quindi ci auguriamo che al più presto anche in Piemonte siano adottate questa legge e come ultimo auspicio di miglioramento della situazione è che tutte le forze addette alle vigilanze del controllo i carabinieri forestali ma anche la polizia locale e anche i veterinari delle ASL svolgono con efficace e puntualità il lavoro per rilevare le negatività infine l'ultima attività che possiamo fare noi tutti i cittadini e adottare un cane dai canili così avremo sicuramente un amico fedele che ci dà amicizia e simpatia e potremo essere davvero i migliori amici del nostro miglior amico i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie a tutti